l'8234 vaticano collezione di franco bolli dal 52 al 1952 al 1998 in classificatore ci sono anche qualche qualche duplicato ci sono parecchie ripetizioni anche blocchi come potete vedere blocchi di 6 blocchi di 7 foglietti ad esempio qua in prima in prima distanza ne vedo 3 1 2 e 3 ad esempio qua sotto dovrebbe essere la serie completa e infatti questa è la serie completa con i tre foglietti con i tre minifogli veramente bozze guardia svizzera posta aerea se servono altri video informazioni iscrivete a filateliachiocciola4baiocchi.com